Martina Caironi, Bergamasca Bergamo è la mia città e mi piace venire in città alta, affacciarmi dalle mura e guardare la parte bassa, perdermi un po' nei miei pensieri immersa anche nel verde. Ed eccomi qui sui gradini dei Propilei ad osservare il passare della gente, arrivare dalla stazione e salire dalla parte bassa di Bergamo alla parte alta. Un giro in funicolare dalla parte bassa alla parte alta vedendo il panorama che cambia piano piano e più sali e più inizia a intravedere tutta la città bassa. Città alta è di sicuro Piazza Vecchia, luogo simbolo della parte alta di Bergamo, insieme alla Biblioteca Mai, al Duomo, alla Corsarola, tutte le viuzze segrete da scoprire. E quando arriva sera quale posto migliore per un aperitivo per le vie di città alta, nelle viuzze o anche in città bassa? Ah, grazie! L'Accademia Carrara, una pinacoteca che ospita una collezione tra le più importanti delle opere rinascimentali. Può essere vissuta anche la sera grazie a DJ set, eventi, spettacoli, a due passi dalla Movida di Bergamo. Bergamo non è solo quello che vi ho raccontato, ma molto di più. Quindi non vi resta che venire a scoprirla. Vi aspettiamo! Ciao!